non so se ve l'ho mai detto ma Asia era il cane che avevo scelto io quando ero piccolina piccolina? vabbè tipo 4-5 anni avevo 16 15-16 anni 9 anni fa ho portato in casa Asia papà non lo voleva non voleva animali rompeva continuamente dicendo no agli animali no agli ma lì no e avevamo già un gatto avevamo Leo vero mamma? Leo ce lo siamo portati ovunque quando siamo andati in Calabria ad abitare per un anno poi ha fatto tutti i trasferimenti con noi è stato proprio è stato il mio migliore amico devo essere sincera un po' come Luna per Sailor Moon ecco per Bunny e alla fine niente poi abbiamo preso Asia perché volevo un cane e ho preso ho trovato l'annuncio con Michele mio fratello abbiamo preso Asia sono andata a prenderlo lui e Angela l'hanno portata a casa e ha iniziato a fare no no perché l'avete portata a casa ti ricordi papà che non lo voleva? sembra quello della scottex è vero? sì era bellissima e gli è rimasto infatti questo muso da cucciola e papà se ne è innamorato anche lì poi dopo ha iniziato ad accettarla ha detto vabbè dai va bene teniamola e quindi niente poi alla fine è diventata la cucciola di mamma perché poi mamma l'ha tenuta con sé e sempre così gli animali poi alla fine quando sei in famiglia prendi gli animali o te li porti via se rimangono con la mamma rimangono poi attaccati esatto quindi questa era la storia di Asia Asia in realtà è mia e poi Asia perché il nome Asia? Asia perché mi piaceva Asia vieni che ti do un altro biscottino è tutta contenta se ne va cosa sta facendo mia mamma con le mani? cosa sta facendo? perché? si è capito ma con le mani? è così? sembri Andrea mamma ciao vai guardiamoci i cumbianinja no io mi devo vedere e io guardo i cumbianinja e io a dorme ne vado di là nella mia camera e io guardo i cumbianinja e io ne vado nella mia camera guardo solo in castigo vai fila in camera vai muoviti fila è bella quella camera c'è tutto è vero? tutti i trucchi di gloria si anche il computer di gloria ora ho acceso il palo santo perché quando arriva questo periodo dell'anno io vado in fissa con gli incensi, i candele e queste robe qui e ve l'avevo già fatto vedere questo palo santo qua l'ho comprato nel negozio di Raw Center ed è buonissimo mamma mia Asia le tue vergogne guardate quell'altro l'è in fondo zin 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 allora io e la mamma stiamo per filmare un video insieme visto che è qua con me oh mio dio che luce e iniziamo a registrare il video unboxing di tutti questi pacchi che ora vi faccio vedere quanti sono ecco qua quello è un altro pacco da aprire si chiama Asia no vabbè questi qua sono tutti i pacchi tra cui due nuovi che mi sono arrivati prima che sono questi due qua e questo qua è speciale perché è un acquisto che ho fatto io e non vedo l'ora di aprirlo e le softbox sono montate adesso metto la canon là in fondo il computer lo porto in avanti che lo userò come schermo per vederci e si può iniziare già che c'ero ho sistemato anche la postazione perché faceva veramente schifo cioè praticamente durerà così fino a domani perché ogni volta poi si riempie di specchi cose trucchi e robe varie e volevo farvi anche l'unboxing di questi perché in realtà erano in un pacco ma li ho dovuti aprire perché ho registrato di video snapchat come vi dicevo per sephora che troverete online che avrete già visto sicuramente quindi non troverete più niente perché su snapchat dura 24 ore quindi niente fate finta di non aver sentito io adesso mi sistemo tutta la roba qua dietro e iniziamo a filmare e registrare allora come sentite c'è una canzone di fondo di sottofondo perché abbiamo finito di registrare il video quello dell'unboxing e adesso stiamo per fare meditazione e infatti faccio ripartire la traccia e corriamo a fare meditazione vi faccio vedere come abbiamo sistemato abbiamo acceso tutte le candele abbiamo acceso l'incenso una bellissima scopa con la paletta lì abbiamo acceso le altre cose e adesso siamo pronti per iniziare allora cos'è che state preparando? stiamo preparando stiamo preparando in questo momento le pizze io sto preparando la cipolla per quella che andrà per quella che andrà la cipolla per Andrea tagliamo la cigolla di Andrea altro che lezioni di cucina qua se mi vedessero tagliare direi come tagli male abbiamo finito di fare meditazione e ci ha disturbato il cane e il gatto perché in realtà il gatto ha disturbato il cane e quindi il cane ha rotto le palle e ho sgridato sia il cane che il gatto quindi meditazione mica tante poi dopo cosa è successo? ah dopo sono andata la sveglia per la mia cosa perché mamma era sono andata prima quando ero riuscita a prendere i pacchi si era dimenticata di avvisarmi e ho preso tardi la medicina e quindi... sto digerendo nulla la medicina sto digerendo e quindi ci ha disturbato la sveglia del telefono si taglia lo zola si spalmas e metto dei pezzettini intanto si scioglie il forno adesso abbiamo i fichi sono biologici tolgo solo il pirlino sopra li possiamo usare così eh così bravissima ho visto che molti pizzaioli li fanno con la buccia il pirlino sopra il purlotto e poi li apriamo quindi niente adesso mettiamo ecco 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 questa è la Andrea che esulta cos'è? un po' di origano, miele e ciao in forno ok riprendiamo un po' il viso di Gloria questo è il viso quello va spiccicato no spiaccicato sulla teglia apriamo i fichi questo natura morta che poi si magna sai che non l'ho mangiata pizza e fichi? ah ma... una natura morta pensavo che dicessi una natura morta non l'ho mai mangiata le pizze sono pronte io stavo morendo da ridere per quest'immagine mia pizze si chiamerà azzurra ah adesso vi spiego perché dice questa cosa comunque guardate quanti gattini inquietanti allora la pizza è pronta scusatemi le pizze sono pronte madre Andrea sta rompendo le balle da giorni con questa storia che cos'è? ti è finita una cliente di nome azzurra davanti al banco? no una bimba una bimba di nome azzurra era davanti al tuo banco e da lì ti è venuta l'illuminazione che tuo figlio si chiamerà azzurra ma io voglio un pezzo di salsiccia già quando l'ho visto ho detto ma questa bambina è stupenda ok ma io voglio un pezzo di salsiccia ruda? si e io gli faccio se vuoi io te la do però bisogna chiedere alla nonna se va bene e la nonna gli fa no azzurra non si mangia la salsiccia più allora lei mi ha guardato con gli occhioni così eeeh eeeh devi andare via ma vuole mangiarmi la pizza vuole finirmi nella pizza così io non la mangio minchia che pre dove c- dove dove è era una civice in tutto ciò e quindi niente mentre andrea ha avuto l'illuminazione vuole una bambina di nome azzurra io non la volevo una femmina ah già perché lui era così lui non voleva una femmina perché dice che poi diventa il classico padre protettivo queste storie qui e quindi vuole un adesso vuole una femmina non si chiamerà azzurra se avrò la possibilità un giorno la fortuna di avere una bambina avrà un nome americano e non si chiamerà azzurra azzurra oh mio questo ciccino cosa cosa ma non è andato lo screensaver ormai avevo messo lo screensaver avevo scaricato questo qua si chiama se vi interessa flicklo famosissimo che praticamente è così con l'orologio molto tumblr però non mi funziona devo aver attivato sicuramente tipo ah ecco il risparmio energetico oh 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 fa due giorni che gli sa sto sto cazzo l'ho inventata io comunque è una batteri non mi fa scherzo non mi fa scherzo Mi fanno male i diti per suonare Ma io continuo sempre Perché la mamma ascolta la musica Dentro le mie cuffiette E lei mi odia, sì, io lo so già E suonerò finché i diti poi I diti poi Mi faranno male Servo la parte bella O fino a che andes si sveglierà Da We ever know this could be Buongiorno, stiamo per fare colazione Buongiorno Questa qua è la Colations Che è praticamente identica a quella di ieri Stiamo uscendo Mi sta accompagnando in stazione Perché vado a Milano Alla fine Andrea dovrebbe rimanere al lavoro Quindi non viene Stasera a cena ci vado con la Lu Già che siamo insieme viene con me Vi fa accompagnare a lei Questa luce bluette Molto molto fredda Super illuminata E vabbè Sto intorno almeno con i capelli Non sentirete la nazza Infatti questo Quando io devo caricare le cose Adesso devo caricare la videocamera Perché ho praticamente una tacca E ovviamente il treno è senza prese Cioè è uno di quei treni subicati Senza neanche una presa decente O più funzioni Perché poi magari se vado nella parte di lato Comunque non funziona Sono qui con la Lu Stiamo andando a Chwena Come vi ho detto oggi E questo posto tra l'altro Ha detto la Lu Che siamo attaccati al Duomo Siamo proprio vicino al Duomo Zona San Babila più o meno Abbiamo scoperto che di fronte a questo posto C'è anche un bakery E questo posto sembra molto Come ha detto la Lu Pettinato Pettinoso Pettinoso Non vediamo l'ora di abbuffarci Adesso ve lo faccio vedere Questo qua è il posto Non si vedrà niente Perché ha la luminosità a manetta Quindi sì Buono Wow Siamo al ristorante Abbiamo appena ordinato E' un po' enorme Molto molto suggestivo Non vediamo l'ora che arriva Dicevo C'era un menù enorme C'era un menù gigantissimo E' un po' di vedere i piatti come sono Speriamo come ci stanno Perché oltre a rire Siano enormi anche i piatti Guardate che goduria Questo qua è il primo Non mi ha fatto vedere l'antipasto Che era una pepata di cozze Io e la Lua abbiamo preso Il risotto con Il ter Aspetta Il risotto con I gamberetti No gamberi Le olive taggiasche E poi c'è la Burrata Top Anzi scusate Zap Questo è il secondo Che sono degli spiedini giganti Come vi dicevo Ma è tutto gigante E' tutta la sera che ci tiziano ferro Poi Calino Un po' di pesce Buono Pesce Ma allora Voi dovete capire Che io e la Bruna qua La Giovanna Scusate No io sono la Bruna La Bruna La Bruna La Bruna sono io Lei è la Bruna Sei tu Lei è la Bruna Io sono la Giovanna Ma questo vino ti ha dato proprio a testa Eh ma guarda Io scambio tutti i nomi Di capire che dopo un po' Vedo tutti i po' Lo faccio in giro Non capisco più in ammazza Allora Siamo qui a Milano Dove abitiamo noi Che abbiamo un po' Il monopoglio Di questa parte di Milano Devi capire che Abbiamo bevuto il vino rosso E non trovevamo più Il nostro Lamborghini parcheggiato Ma assolutamente no Poi ci ti erano ricordati Che abbiamo usato La macchina del Giorgio Del Giorgio Cioè Le po' facciate Che ci prese il Giorgio Tra l'altro Piena di cagate Dei piccioni Che Mamma mia Tu sapesti Chi ha assunto Chi ha assunto Il Maurizio Guarda Non ti dico Prova a indovinare La Valeria La Valeria Con figli a carico Con i figli a carico Come davli un palazzo Del genere La Valeria Guarda veramente No La Milano Sta cadendo giù A pezzi È che l'hanno data in mano A questi qui Cioè Veramente No ma non si può Io dico Io pago le tasse Pago i palazzi Che pago tutto E mi dò E mi dò queste cose Guarda è stato un investimento Sbagliato Tutto sbagliato Sta cadendo tutto a pezzi Ti ricordi La La Hermenegilda La Hermenegilda Che Ma è Giovanni Della macchina Ma lo so Conosco anch'io Ora c'è il Giova È il Giova di Milano Sono tipo 800 mesi Che parliamo così È sempre gli stessi nomi Usiamo Il Giorgio Il Giovanni L'Hermenegilda Il Bruno Il Bruno Ti dò il numero Del mio avvocato Che si chiama Che è Giorgio No Gianmarco Quell'altro È il fratello di Giorgio Dimmi che è il fratello Perché se è il fratello Il mondo È una chewing gum Allora devi metterti Al passo Con i denti Ma Carlo Dov'è finita Guarda La Carlo Ma perché la Carlo È la prima Dell'operazione Il naso Adesso Ti sento che Parli più nasale Io ho fatto quella La pavesi facciata Senti che mi viene L'abbiamo così Ma scusa Ma dimmi da chi L'hai fatta Guarda Sono andata Oggi mi chiedi Tutti questi nomi A posto Per mettermi In suggestione Sono andata Dal Castogli Da Giovanni Ma è l'Umberto 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 Che non ricordo Di quando mi ha fatto Il naso storto Al contrario Mi ha fatto Il naso storto Mi sentivo Michael Jackson Qui in periodo Lì Mi ha fatto Le stupacciglie Nel contrario Il Gregorio Guarda Ha fatto un lavoro Il Gregorio Che Io ogni volta Che pronuncio Il suo nome La gente Non ci crede Che si chiama Gregorio No No Perché Si scrive Quella La V Quando ci stanno Le cose da dire Bisogna dire E diciamo E diciamo Le cose come vanno dette Allora Dobbiamo essere sinceri Milano l'ho tirata su Io e la Giovanna Esattamente La Giovanna E io Quel che è della Bruna Ma qua che cazzo Stiamo facendo Un giro della Madonna Perché ti sto facendo Fai tu panoramico Ma la Bruna Veramente Sei un angelo Guarda Allora qua Ci sarà la nuova metro Notare che io A volte dico È perché tu sei un po' Come la Belen Che dice Oh mio dio Oh mio dio Mi ha toccato la spallina C'è capisce Quella roba Un po' in fatica Buonasera Io sto per andare A fare la nanna Ci tenevo a salutarvi A chiudere il weekly E quindi Spero che questa settimana Vi sia piaciuta Quindi Un mega bacione E ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao